però mi sentiate buongiorno mi chiamo luca ballotta e sono un tecnico della divisione cooling di danfoss che si occupa di supporto tecnico alle soluzioni air conditioning di refrigerazione commerciale ed industriale di danfoss danfoss è un'azienda che sicuramente voi conoscerete che produce costruisce prodotti per la refrigerazione e il supporto tecnico di danfoss si distingue o cerca di farlo nel migliore dei modi per non semplicemente cercare da una lista di codice non data sheet il prodotto giusto ma si cerca nel migliore modo possibile di trovare le soluzioni per i clienti il webinar di oggi che tratta soprattutto i refrigeranti a2l ea3 è molto immagino molto interessante dal punto di vista sia dell'ufficio tecnico che sta incominciando a gestire questo tipo di fluidi che sono sia a basso gvp che quasi sempre infiammabili che anche dal punto di vista dell'installatore che invece è necessariamente costretto ad operare con questi tipi di fluidi magari ad oggi ancora non si opera moltissimo con questi fluidi ma secondo gli scenarii che andremo a vedere in questo webinar ovviamente la percentuale di fluidi infiammabili presenti nelle applicazioni commerciali e di al conditioning andrà sempre di più ad incrementare danfoss regolarmente durante la settimana della climate week di new york city organizza cosa che viene chiamata la refrigerant week 2000 questo caso 2019 che proprio in questa settimana dove vengono trattati diversi argomenti la maggior parte in lingua inglese tranne questo webinar e quello successivo in italiano che sono stati organizzati proprio per approfondire la lingua italiana argomenti che sono ritenuti più interessanti per il pubblico italiano quindi non solo l'installatore ma anche perché no e lo im costruttore che deve affrontare le problematiche di utilizzo dei fluidi refrigeranti in questo caso infiammabili alcune regole giusto l'informazione di servizio giusto per introdurre il tipo di webinar ed il microfono del pubblico è tenuto di default spento fondamentalmente questo sarà un monologo del sottoscritto con domande alla fine le domande alla fine solitamente vengono risposte via email perché di solito dopo un webinar di questo tipo le domande sono piuttosto complesse strutturate e non non è possibile rispondere in maniera chiara e corretta e precisa e nei pochi secondi nei pochi minuti che rimangono a fine webinar siete comunque liberi di esprimere tutte le vostre pareri tutte le vostre domande chiedere e verranno e verranno ricapitate ok in forma scritta andrete a scrivere dei messaggi e sarà mia cura rispondere ad ogni singola domanda se non riuscirò a farlo oggi verrà fatto in forma scritta via mail per questione di maggiore completezza e precisione prima di iniziare vorrei portare l'attenzione giusto su quello che andrete a trovare nel nel seguente webinar odierno questo perché perché quello che viene presentato oggi sono idee di danfoss ok non devono essere considerate delle regole tutto quello che viene detto oggi verrà detto oggi deve essere confrontato con la legislazione attuale ok non si diranno cose che sono contro la legge ovviamente però danfoss esprime il proprio parere per quanto autorevole deve essere per voi una fonte di riflessione è una fonte di informazioni ok voi agirete secondo regole regole dello stato italiano e secondo vostra ovviamente coscienza quindi verranno forniti dei consigli che penso siano saranno per voi utili anche se magari sono cose che saprete già però sarà interessante andare a vedere maniera un po più dettagliata partiamo con il primo capitolo del seguente webinar che è relativo ai fluidi refrigeranti l'argomento ovviamente più interessante e attuale della refrigerazione in questi ultimi anni perché non è ancora stato definito esattamente quale sarà lo standard per il futuro e in linea di principio uno standard ci sarà perché è chiaro che come vediamo in questa slide dove c'è un cerchio che si chiude partendo dai refrigeranti naturali arrivando di nuovo refrigeranti naturali ph hfo quindi partendo dal 1834 arrivando al 2019 vediamo come si si torna da dove si era iniziate nel 1834 ovviamente i fluidi refrigeranti erano naturali perché non c'era la possibilità di crearne altri in maniera artificiale poi circa dal 1930 sono stati introdotti alcuni refrigeranti che sono più sicuri ok pensiamo solo l'ammonia che ha tanti vantaggi e un po di svantaggi come la tossicità non è uno svantaggio da poco quindi sono stati introdotti i fluidi refrigeranti cfc che hanno creato un sacco di problemi allo strato di ozono ok e sono stati banditi sono possiamo poi passati agli hcfc che hanno uno di più basso dei cfc e siamo arrivati agli hfc quindi r11 poi siamo passati alle 22 poi siamo passati agli r404 non vogliono essere delle alternative esatte di uno con l'altro semplicemente sono un esempio di come ci siamo evoluti e stiamo arrivando oggi ad avere dei fluidi refrigeranti naturali ok pensiamo al co2 pensiamo al propano ok oppure hfo che hanno un valore di gvp veramente basso gvp global warming potential quanto contribuiscono al riscaldamento globale bene quali saranno gli elementi trainanti dell'evoluzione dei refrigeranti nei prossimi anni sono quelli che abbiamo indicato sulla destra quindi soprattutto saranno sicurezza ed efficienza energetica ok è importantissimo avere dei refrigeranti green quindi compatibili con l'ambiente che abbiano una buona efficienza questo perché perché non si può pensare di utilizzare un fluido naturale che ha un cop piuttosto basso dell'impianto e quindi la co2 prodotta per sopperire alla mancanza di efficienza è maggiore di quella risparmiata utilizzando il fuori refrigeranti dobbiamo pensare che tutto debba essere deve andare a braccetto che debba debba portare a una riduzione dell'impatto dei fluidi refrigeranti sull'ambiente vediamo un attimo quali sono i principali refrigeranti vediamo in questa slide come la colonna di sinistra sia sparita ok perché i fluidi refrigeranti che hanno o di p maggiore di zero quindi potenziale di danneggiamento dello strato di ozono non uguale a zero sono stati banditi se guardiamo la colonna di destra abbiamo alcune possibilità ok vengono definite come refrigeranti a medio e lungo termine e vediamo quali possono essere ok colonna di sinistra quelli tra virgolette più conosciuti gli hfc come dare 32 come singolo fluido o nelle miscele r404 a vediamo tra parentesi il valore di gvp attenzione che il valore di gvp è sì univoco nella nostra idea però ci sono diverse possibilità di valutarlo ok quindi non dobbiamo spaventarci se in alcune data sheet vediamo un valore di gvp a e in altri data sheet un valore di gvp b diverso non può essere molto diverso però c'è la possibilità che sia leggermente diverso ok vediamo invece nella parte di destra i refrigeranti naturali parliamo soprattutto di quelli a singolo fluido come possono essere propano propilene ammoniaca e co2 sono solo alcuni esempi ovviamente non vuole essere esaustiva nella parte centrale ci sono i le soluzioni a basso gvp chiamate hfo quindi nella famiglia 1 2 3 4 vediamo tra parentesi come il gvp di questi due fluidi se lo z e che il yf sia veramente veramente basso sino qua pari a 4 e 7 chiaro che questi fluidi sono alternativa al 134a e quindi vengono visti per applicazione non a bassa temperatura più da condizionamento anticipiamo già la slide successiva dicendo che i principali fluidi a basso gvp sono infiammabili ok and dopo andremo a valutare cosa significa essere infiammabili vediamo in questo grafico con la curva indicata di color rosso che il limite di infiammabilità i fluidi che si trovano al di sotto la curva sono infiammabili ok vediamo quindi come i principali principali alternative ai fluidi a basso gvp sono infiammabili nella parte di sinistra dove vediamo con le frecce che ho scritto gvp 2015 18 21 e 30 c'è la proiezione del gvp medio di tutti i refrigeranti presenti in commercio a seconda degli anni ok nel 2015 era sopra il 2000 nel 2018 sarà cavallo del 1000 e nel 2021 sarà sotto il 1000 e nel 2030 si attesterà a cavallo del 600 queste sono delle stime ok per poter garantire il rispetto della normativa della direttiva effegas ok andiamo a vedere in un po più in dettaglio invece qual è la classificazione dei refrigeranti ok perché il refrigerante secondo asce le possono essere classificati come tossici o non tossici ok quindi bassa tossicità come principali freon o un'allevata tossicità come può essere per esempio l'ammoniaca e poi vengono definiti in funzione della infiammabilità vediamo come la prima lettera è relativa alla tossicità la seconda lettera che può avere in alcuni casi anche in seconda lettera che è un numero che può avere in alcuni casi anche la lettera è invece in funzione del della infiammabilità quindi abbiamo gli a1 che sono non tossici non infiammabili gli a2 che sono non tossici e infiammabili e gli a3 estremamente infiammabili vediamo come nella fascia a2 c'è un sotto insieme un ulteriore divisione tra a2l ea2 di a2l sono i gas della famiglia a del gruppo a che hanno un basso indice di infiammabilità come viene definito questo valore bene passiamo al grafico di destra andiamo a vedere come i principali e i principali parametri coinvolti nella definizione o nella classificazione di un fluido quindi classe 2l 2 o 3 sono ovviamente i soliti tre che più importanti che sono la concentrazione minima di infiammabilità ok qual è la percentuale di fluido refrigerante nell'aria che può far innescare il fluido secondo calore di combustione quanto calore genera la combustione di una unità di massa di refrigerante si utilizza il miglia già al chilo o chilo già al chilo dipende ma sono comunque se spero fondamentalmente la stessa cosa e ultimo a non per importanza la velocità di propagazione della fiamma maggiore è questo valore più il refrigerante pericoloso ok perché propaga la fiamma all'incendio in maniera più veloce vediamo come la differenza tra la classe 2 la classe 2l non è altro che la velocità di propagazione della fiamma vediamo nella parte bassa della slide infatti che partendo dal caso a 60 gradi che quello dell'ascere il limite inferiore di infiammabilità deve essere maggiore di 100 grammi al metro cubo sia la classe 2l e 2 il calore di combustione deve essere minore di 19 mega joule al chilo o 19 mila chilo già un chilo e la velocità di fiamma vediamo la curva la retta in verticale che divide la 2l 2 deve essere minore di 10 cm al secondo quindi se io a queste tre caratteristiche un fluido che viene definito lievemente infiammabile attenzione lievemente vuol dire che è infiammabile andiamo a vedere alcuni esempi ora dei fluidi infiammabili paragonati tra loro partendo da un fluido piuttosto famoso che aveva 32 confrontandolo con il probabilmente il fluido più utilizzato nella raffigerazione commerciale escludendo chiaramente la raffigerazione domestica che è il propano gare 2 90 ok vediamo un attimo quali sono le differenze tra questi due fluidi perché riusciremo a capire da questa tabella in maniera molto efficace perché è una una tre e perché è una una due l perché è una più pericolosa degli altri intanto partiamo da una temperatura di auto innesco vediamo come la temperatura del di auto innesco del propano sia 4 70 contro 6 48 quindi è sufficiente una temperatura più bassa perché si auto inneschi la fiamma qual è la velocità di propagazione abbiamo detto che deve essere minore di 10 cm al secondo ed è 6,7 per i fluidi ad well invece il propano a 46 cm al secondo quindi una veramente c'è un delta veramente veramente elevato rispetto tra i due i limiti di infiammabilità inferiore con umilità relativa del 50 per cento 300 grammi o contro 38 vuol dire che è sufficiente molte meno quantità per unità di volume di propano per innescarlo 10 quasi 10 volte meno il calore di combustione prodotto assolutamente diverso meno di 10 contro 50 quindi un chilo di propano che brucia produce un calore veramente veramente più elevato di 32 e l'energia di innesco misurata sempre a 50 gradi di umidità e a 30 scusate 23 gradi è piuttosto bassa 30 100 r 32 e ben 0 25 quindi da questa tabella si evince in maniera molto chiara quali siano le differenze di infiammabilità tra i due fluidi ok tra tutti gli a 2 l probabilmente il r 32 è uno dei più infiammabili ok gli altri r 454 b che ha una velocità di propagazione ancora più bassa o anche gli un 2 3 4 ok che hanno energie di innesco elevatissime e possono essere considerati altrettanto sicuri o blandamente infiammabili ok vediamo quali possono essere gli alternativi per i fluidi a medio alto gvp considerando il caso del 134 e del 404 partiamo dal 134 a ok chiaramente la direttiva f gas pone dei limiti che sono ben definiti ci sono tre ban principali che sono l'unice il 12 13 dovrebbero essere se non ricordo male negli allegati non ricordo qual è l'allegato ma è disponibile anche in lingua italiana è possibile andarlo a verificare ok il ban 11 è quello relativo alle unità ermetiche ok tipo unità clip on per celle o tutte le unità ermetiche anche di piccola taglia il ban 12 è quello relativo alle condensing unit quindi unità moto condensante poste in un sito e per esempio unità evaporante batteria poste in un altro quindi io ho una centrale non ho una centrale o più celle o tre celle con unità moto condensante collegata con chiaramente nel piping e qui sono nel ban 12 il ban 13 invece è relativa alle centrali multi compressori che hanno più di 40 kilowatt ok ed viene divisa in cascata quindi il fluido raffredda un altro fluido che può essere agricole o anche un impianto co2 subcritico o diretta quindi la centrale pompa o anche senza pompa alimenta diciamo le celle ok direttamente senza avere un fluido secondario bene partiamo dal ban 11 il limite fino al 2020 a 2.500 quindi i principali fluidi sono ok usiamo sempre come metro di paragone il 134 a in questo caso ok che a gvp circa inferiore ai 1.500 bene dal 2022 cosa succede che il limite sarà abbassato a 150 quindi tutti i fluidi che hanno gvp maggiore di 150 non potranno essere utilizzati quindi vediamo come le possibilità di utilizzo di fluidi refrigeranti del 2022 si limita molto agli hfo e ad alcuni idrocarburi come propano e propilene da qui a quello che succederà nel 2022 non lo sappiamo potrebbe venire fuori ovviamente il fluido che non è infiammabile e non è un gvp bassissimo questa è la situazione attuale quello che danfoss si aspetta che accadrà nei prossimi anni e invece per il ban 12 abbiamo detto che unità moto condensanti dal 2020 fino al 2020 anzi scusate dal 2020 il limite sarà 2005 quindi il limite è molto più alto rispetto alle unità ermetiche per quanto riguarda le centrali invece abbiamo quelle con un circuito secondario quindi con un impianto a cascata che hanno lo stesso limite del ban 12 quelle dirette invece no avranno il limite anche loro di 150 quindi anche lì si andrà verso fluidi e a basso gvp naturali o hfo andiamo a vedere le alternative scusate scritto 134 ma è 404 e i soliti limiti ok dal 2020 il ban 11 richiede che il limite sia abbassato a 2005 quindi verrà il 404 anche a un gvp decisamente elevato verrà bandito quello che però noi vediamo che è interessante è che le soluzioni di medio termine che vengono spesso utilizzate adesso 4 4 8 4 4 9 e simili nel 2022 non saranno più possibili perché aver rapportato gvp a 150 per quanto riguarda invece il ban 12 quindi le unità separate molto condensanti e chiaro 404 nel 2020 non potrà più essere utilizzato perché ovviamente 2005 però rimarranno vari delle altre alternative quindi come abbiamo visto nella sia il precedente di unità ermetiche hanno dei limiti molto più stringenti rispetto a quelle non ermetiche il ban 13 anche questo ha il limite di mille e cinque nei circuiti a cascata questo cosa significa che sarà possibile usare r 134 a se in un circuito a cascata perché è un circuito a cascata subcritico co2 r 134 sarà sempre possibile farlo se invece non è una cascata ricadiamo nel discorso delle unità ermetiche quindi fluidi a basso gvp con limite di 150 e quindi fluidi a basso gvp naturali o fluidi in questo caso infiammabili ok dal 2022 quindi vediamo in entrambi le slide come in alcuni casi le soluzioni 4 4 8 4 4 9 4 5 2 quelle a gvp più basso del 404 ma non sufficientemente basso quindi con gvp non inferiore a 150 sono soluzioni di breve termine che verranno bandite nel 2022 bene adesso che abbiamo visto quello che potrebbe succedere nei prossimi anni abbiamo scoperto che i fluidi non potranno più essere caricati negli impianti andiamo a vedere come sarà possibile fare attività di manutenzione assistenza perché una delle domande principali che si pone un operatore è piuttosto semplice bene se il 404 non può essere più caricato io ho un impianto 404 e che faccio come devo fare manutenzione posso farla non posso farla bene la direttiva effeggarci l'incontro e ci spiega quello che si può e non si può fare allora dal primo gennaio 2020 è vietato caricare impianti o utilizzare gas con gvp maggiore di 2005 quindi esempio 404 a a un gvp maggiore di 2005 se il carico di co2 equivalente inferiore a 40 tonnellate cosa vuol dire vuol dire che se io moltiplico il carico in chili anzi se io divido 40 mila facciamo la più semplice io divido 40 mila che sono le tonnellate di co2 equivalente per il gvp ottengo un valore in chili questo valore è il massimo valore di carica dell'impianto se io ho un impianto che ha una carica maggiore di 10,2 chili io non posso farle caricare nuovo gas a meno di alcune eccezioni che andiamo a vedere nella serie successiva se a carica dell'impianto è inferiore a 10,2 kg in questo caso di r 404 a posso farlo andiamo a vedere dove non si applica al divieto bene fino al primo gennaio 2030 è possibile utilizzare gas rigenerati che vedevano essere etichettati in maniera idonea e quindi deve essere ben chiaro che il gas è stato rigenerato ok che non oppure posso riutilizzare il gas dell'impianto stesso anche se il gvp è maggiore di 2005 ci sono poi altri anche altre eccezioni apparecchiature militari apparecchiature che vanno a meno temperature inferiore a meno 50 ma non è questo l'oggetto principale delle vostre manutenzione quindi è possibile fare manutenzione si verifichiamo la carica dell'impianto se la carica inferiore a 40 tonnellate posso farlo tranquillamente fino al 2030 poi si vedrà da qui al 2030 cosa succederà se la carica è superiore e quindi al discorso delle 40 tonnellate equivalenti cosa succede dobbiamo verificare se posso utilizzare il gas dell'impianto oppure se ho del gas rigenerato bene adesso proviamo un attimo a parlare di fluidi infiammabili ok abbiamo detto abbiamo capito quando si può e non si può fare manutenzione abbiamo visto che il futuro sarà nel gas a basso gvp perché la normativa la direttiva ce lo impone ok e abbiamo visto anche che i principali gas a basso gvp attualmente commercio sono infiammabili quindi le soluzioni a lungo termine sono o naturali o infiammabili o entrambe le cose perché ci sono naturali infiammabili come il propano ok quindi teniamo sempre in considerazione che dovremmo abituarci a maneggiare i fluidi potenzialmente chiamati le domande che ci sorgono spontanee in questo momento sono bene i fluidi sono infiammabili quindi c'è latex cosa devo fare come mi devo comportare andiamo a vedere laser com ha scritto una guideline che vi consiglio di scaricare che è gratuita dove vengono indicati alcuni accorgimenti alcune attenzioni da avere per operare totalmente in sicurezza ok perché un conto è maneggiare gli a3 un conto è maneggiare gli due dopo andremo a vedere però sappiamo dobbiamo sapere che abbiamo comunque un gas infiammabile ok all'interno dell'impianto per la nostra sicurezza e quella delle persone che sono vicine alla zona dove faremo manutenzione partiamo con alcuni spunti di riflessione legati ai fluidi infiammabili perché i gas infiammabili sono realmente pericolosi o è semplicemente un'avvertenza che ci darà nel lato a lato pratico non ci darà alcuna variazione rispetto al nostro modo di operare considerando i freni non infiammabili dobbiamo dire che i gas infiammabili che hanno potenzialmente il rischio reale che si formi in atmosfera esplosiva quindi bisogna assolutamente maneggiare con cura ok il livello di pericolosità di varia tra due l a3 e dobbiamo però ricordarci che stiamo maneggiando qualcosa che potrebbe innescarsi ok quindi dobbiamo conoscere le caratteristiche del fluido e conoscere le linee guida principali per operare in sicurezza bene partiamo dalla più banale ok che è quella di eliminare le fonti di innesco e fonti innesco sono tante ok ne vediamo alcune fiamma libera ovviamente no non si può fumare i lavori a caldo devono essere fatti quando l'impianto è stato messo in sicurezza quindi non saldare non tagliare superfici calde anche quelle che sono assolutamente da evitare dopo andremo a vedere qual è la regola elettricità statica no quindi messa a terra in ambito in ambito delle raffinerie o in ambito di ambienti atex tutta l'abbigliamento e anche le calfature sono antistatiche ok per evitare che si formi elettricità statica scintille assolutamente da evitare quindi utensili attenzione devono essere idonei per fare certi tipi di attività e ovviamente l'arco elettrico quindi ci vogliono i componenti approvati bene andiamo andiamo un attimo a vedere quali sono le possibili sorgenti di innesco in un impianto più o meno grande ok quindi che non è solo un impianto commerciale molto piccolo può essere anche una centrale frigorifera con vari componenti quindi partendo da in alto a destra possibili fonti di innesco sono i switcher e i contatori termostoti e sostoti ovviamente i motori elettrici delle ventole in resistenza di sbrinamento un'altra causa è sovracarico termico e le pompe di qualsiasi tipo con po del vuoto pompa del fluido frigorifero secondario dobbiamo analizzare bene il discorso delle resistenze del sovracarico termico perché come abbiamo detto prima la temperatura superficiale è un elemento piuttosto importante da tenere in considerazione e quando si fanno questo tipo di attività infatti un valore che viene utilizzato per operare in sicurezza è proprio quello di non superare una temperatura che è inferiore a 100 gradi la temperatura di in alto innesco del fluido quindi se la temperatura di auto innesco del fluido 470 gradi per il propano bene io devo garantire che la temperatura superficiale massima del mio componente è 370 gradi questo eviterà qualsiasi problema di auto innesco perché non si raggiunge la temperatura sufficiente per avere auto innesco abbiamo ricordiamo sempre che ci sono il cosiddetto tirangolo dell'esplosione ok ci devono essere tre contemporaneamente tre diciamo tre cose insieme che devono rispettare dei parametri ben precisi per ogni per ogni fluido concentrazione che deve essere all'interno di un range tra la minima e la massima temperatura energia di innesco se manca una di queste tre variabili ok non si avrà innesco quindi dobbiamo ricordarci sempre che dobbiamo valutare tre variabili contemporaneamente questo ci dà una mano perché se sia l'una non l'altra se io non non creo l'energia di innesco potrei avere anche la percentuale giusta ma il fluido non avrà mai problemi di infiammabilità un problema da non sottovalutare che è quello oltre a quello delle eliminare le fonti di innesco ecco di trasporti ok è chiaro che non danfoss non è uno specialista di trasporti di fluidi e refrigeranti volessero ricordare che i trasporti devono essere eseguiti a norma di legge italiana quindi se ci sono dei limiti di carica ovviamente vanno rispettati il tragitto deve essere più breve possibile è chiaro che possibilmente infatti vediamo anche i camion di trasporto dei fluidi e refrigeranti sono su pianali aperti non su furgoni chiusi se sono chiusi ovviamente devono essere ventilati adeguatamente non è non possiamo non vogliamo entrare in un ambito troppo specifico per questo argomento perché ovviamente non fa parte della core business della danfoss quindi le conoscenze sono più legate all'applicazione non al trasporto del fluido ovviamente un consiglio banale che tutti immagino e rispetteranno è quello di eliminare la tensione dei componenti ok non si deve operare con componenti sotto tensione bene andiamo a vedere quali sono le precauzioni da tenere in considerazione per la manutenzione dei fluidi a2l ok che abbiamo detto essere leggermente infiammabili ma comunque infiammabili ok quali sono le principali precauzioni dopo veniamo a vedere in dettaglio però un paio di cose dovevano fissate subito ok intanto il rischio che possano infiammarsi e accendersi è reale quindi va tenuto in considerazione quindi l'operatore deve essere qualificato ad operare con quel tipo di fluidi bene seconda cosa è quando può verificarsi un innesco quando si miscela la fuga del gas o lo sversamento del gas che può essere fatto anche in maniera intenzionale dall'operatore con l'aria ok quindi è importante ricordarsi che quando il fluido si miscela con l'aria soprattutto se andiamo in luoghi chiusi confinati dove c'è possibilità di ristagno andiamo ad avere un fluido che in fase gassosa è più pesante dell'aria dobbiamo stare attenti perché potrebbe formarsi un'atmosfera potenzialmente esplosiva bene andiamo a vedere come operare in maniera un po più pratica ok molto semplice molto veloce con i fluidi a2l dopo andremo a vedere i fluidi a3 ok che abbiamo detto essere grandamente infiammabili bene partiamo dai principali attrezzi manuali ok il principale attrezzi manuali sono ok sono a posto possono essere utilizzati attenzione e quando abbiamo qualcosa che non è prettamente manuale a una batteria a un circuito a qualcosa di elettronico ed alimentato è da verificare che sia ok con i fluidi a2l è molto difficile che un manometro digitale abbia problemi però è da verificare che sia ok perché quelli a2l potrebbe essere ok ma con il propano no ok quindi attenzione a verificare questa cosa tutto quello che è prettamente manuale non è un problema quindi chiavi valvole tubi flessibili kit manometrici verifichiamo il discorso dell'apparecchiatura elettronica se ne abbiamo bene passiamo a qualche componente invece che è un po più delicato ok pompa del vuoto la pompa del vuoto deve essere approvata per fluidi a2l perché perché nel fare il vuoto ok ci possono essere tracce di refrigerante che è infiammabile ok la pompa cosa fa sversa nell'ambiente ok parte di refrigerante che ha tra virgolette rimosso dall'impianto questo potrebbe creare un'atmosfera esclusiva ok o potenzialmente creare il rischio di infiammabilità bene dobbiamo verificare che la nostra pompa sia idonea esistono per esempio non voglio esagerare in questo caso pompe a te ok che hanno un motore a tex che ha delle caratteristiche di mancanza d'innesco temperatura superficiale sono stati fatti dei test che garantiscono che tutto sia ok quindi attenzione attenzione ad utilizzare una pompa che idonea per i fluidi infiammabili in questo caso a2l chiaro che conviene posizionare in posizione remota lontana non proprio sull'impianto questo non per la pompa in sé perché se io ho una pompa che è a tex potrei mettere anche di fianco all'impianto ok perché sappiamo che è una pompa tex non ha possibilità di innescare una esplosione però dobbiamo sempre ricordare che ci possono essere diversamente di gas dovuti all'operazione di vuoto dalla pompa quindi tutto questo va tenuto in considerazione dobbiamo assolutamente mettere la pompa in una posizione sicura e che va valutata volta per volta comunque alcuni metri di distanza dall'impianto in un'area ventilata e aperta ok non sicuramente in un'area che può essere uno spazio confinato stessa cosa per i dispositivi di recupero del refrigerante ok perché stesso problema della pompa i componenti elettronici contatore ci possono essere switch tanti componenti che potrebbero innescare che sia difficile siamo tutti d'accordo che sia possibile siamo altrettanto d'accordo quindi stesse precauzioni indicate per la pompa ci ammettiamo alla giusta distanza di sicurezza tanto è solo una questione di lunghezza delle canne che vengono utilizzate ok quindi sembra una banalità ma una perdita su una canna che viene utilizzata per recupero del fluido refrigerante può creare un'atmosfera potenzialmente esplosiva bene continuiamo con il cerca fughe cerca fughe come abbiamo detto prima spesso è un componente elettronico ok escludendo il discorso della della schiuma che può essere utilizzata ok e dello spray il cerca fughe deve essere rilasciato per i fluidi infiammabili quindi a 2l attenzione verificate se il vostro cerca fughe lo è soprattutto chi opera in campo va in luoghi dove comunque sono presenti altre persone oltre a noi operatori che abbiamo la giusta formazione per operare con questi gas quali possono essere le perdite durante le fasi di manutenzione sono tante abbiamo detto che posso avere una perdita mentre faccio vuoto o mentre o mentre carico ok posso caricare sul dato liquido posso caricare sul dato gassoso ok in entrambi i casi io posso avere perdite dalla bombola posso avere perdita dal kit manometrico per la regolazione della pressione posso avere una perdita dalla dal rubinetto dove vado a caricare sia nel fase liquida che gassosa ok quindi uno dei consigli che viene fornito è quello oltre di operare in spazi aperti è quello di utilizzare un ventilatore per garantire un corretto ricambio di aria ok per evitare che si formino in atmosfera potenzialmente esplosiva andiamo a complicarci un po le cose ok parliamo dei fluidi a3 abbiamo visto quali sono le principali necessità ok per operare in sicurezza con i fluidi a2l aumentiamo un po il livello di difficoltà con i fluidi a3 solito esempio propano propano che abbiamo visto un'energia di innesco più bassa una percentuale minima di concentrazione più bassa una velocità di fiamma molto elevata rispetto al 32 che è una 2l tra virgolette abbastanza infiammabile quindi dobbiamo assolutamente scongiurare che cosa per esempio che si formano scintilla dagli indumenti scintille utilizzate che si formano dagli utensili in metallo ok esistono che hanno un costo veramente esorbitante delle attrezzature anti scintilla ok hanno un costo foglio vengono usate raramente ma quando si fa manutenzione un impianto grande in funzione sono necessarie ok dobbiamo evitare che si formano scintille dovute a una cattiva messa a terra bene altri consigli che danfo si sente di dare evitare qualsiasi fonte di innesco a più circa tre metri ok a più della zona dell'area dell'impianto perché perché noi non sappiamo se c'è una perita dove questo gas pensiamo al propano che più presente dell'area si andrà a posizionare se ho un angolo o un luogo un po confinato se anche se non proprio confinato per definizione potrebbe essere quindi potrebbe formarsi l'atmosfera esclusiva a due metri di distanza da dove noi stiamo operando noi stiamo invece pensiamo che sia tutto ok ok vabbè mettere pitogrammi effettuare una buona ventilazione evitare perdite ma quello che purtroppo magari stiamo andando a cercare di risolvere una perdita ok è un'altra cosa che non dobbiamo mai fare perché già avviene se c'è una perdita è miscelare aria con il refrigerante dopo andremo a vedere il discorso della perciatura della pompa del vuoto che è dell'attività del vuoto nei casi in cui si va ad operare in ambienti che che non sono all'aria aperta ma anche l'aria aperta è conveniente averlo sempre consigliato avere un dispositivo personale che misura la concentrazione di del fluido per esempio propano ok che suona nel caso si sia formato un atmosfera esclusiva e ci dà il tempo di andarcene prima che possa innescarci il problema ok e poi ovviamente ultimo ma non per importanza utilizzare tutta apparecchiatura idonea per il fluido che stiamo utilizzando quindi questo caso una 3 quindi tutto quello che ci siamo detti prima deve essere valido non per la 2 l ma per la 3 quando parliamo di fluidi infiammabili di tipo a3 e pensiamo al propano ok sappiamo che ci sono bombole di propano e bombole di cpl ok sulla carta stiamo dicendo la stessa cosa nella realtà non è così il propano che noi andiamo a caricare nel nostro impianto frigorifero deve essere propano anidro al 99 e qualche cosa per cento il gpl che compriamo per fare la grigliata a ferragosto non è la stessa caratteristiche ok quindi non pensiamo di comprare la stessa cosa infatti i prezzi sono decisamente diversi e non carichiamo mai quel tipo di fluido nel nostro impianto o l'impianto funziona peggiorerà un po le prestazioni ma funziona attenzione che le bombole che vengono vendute vendute per fare il barbecue o quello che volete che non sia impianto il frigo non sono idonee e non sono progettate per caricare impianti frigoriferi quindi non pensiamo mai di utilizzare una bombola di propano facendola di scusate di gpl per caricare un impianto a propano questa è una banalità ma non è la prima volta che si sente dire bene qual è la procedura che raccomandiamo è più o meno quello che ci siamo detti due slide fa ok dobbiamo mettere un pittogramma dicendo che stiamo lavorando con propano ok perché tutti se lo diciamo era 32 nessuno capisce ma se diciamo propano e diciamo che gpl sono tutti sui attenti perché sanno qual è la pericolosità del fluido soprattutto il fatto che è più pesante e l'aria bene doveva posizionato cerca fughe per terra ok negli impianti industriali di medio grande dimensione e i nasi ok di propano vengono vengono messi a più o meno una testata di 30 e 50 centimetri ok perché perché il gas è più pesante quindi assolutamente in basso altro consiglio garantire una corretta ventilazione se non siamo in un'area aperta completamente aperta dobbiamo essere sicuri che non ci sia un ristagno di aria che potrebbe formare un'atmosfera esclusivo infiammabile ok come abbiamo detto prima tutte le apparecchiature che possono dare adito a fughe quindi macchina macchina per il recupero dell'effigerante bombola per la carica o anche la bombola per il vuoto va tenuta ad una certa distanza consigliati tre metri e verificare prima di effettuare tutte queste attività che non ci siano perdite le connessioni bene e adesso che abbiamo visto tutte queste procedure ci chiediamo bene come possiamo fare il vuoto e rompere vuoto allora passiamo questa è stata messa al contrario parliamo prima della come rompere vuoto non rompere mai vuoto con aria ok ma farlo con azoto azoto perché perché non riduce a zero le possibilità di che cosa di un innesco ok perché se le facciamo con aria andiamo a mettere una percentuale di ossigeno che si può miscelare con il propano e crea una atmosfera potenzialmente esplosiva quindi azoto anidro bene un passo indietro eseguiamo nuovamente il vuoto ok il vuoto come come va eseguito con apparecchiature idonee ad operare con i fluidi a3 solitamente le pompe il vuoto per semplicità sono a tex ok bene se devo fare manutenzione ci siamo detti di avervi che è consigliato avere un dispositivo personale attaccati agli indumenti che misura costantemente se la creare potenzialmente esplosiva ok e poi ovviamente posizionare a livello del terreno in cercafuga per sapere se esiste o meno una fuga bene le attività che dobbiamo fare di service che ovviamente possiamo fare ok una volta che abbiamo messo in sicurezza di un piano l'impianto consigliamo ovviamente di caso sia possibile avere un flussaggio di azoto all'interno dell'impianto ok per essere sicuri di non avere un'atmosfera potenzialmente esplosiva ok quindi quello che ci siamo detti prima il test test di perdite non vanno mai fatti con l'aria ok perché continuano una percentuale di ossigeno e quindi procedere sempre con l'azoto bene andiamo a vedere invece un'ultima raccomandazione è che è legata allo sversamento del gas in atmosfera ok nel caso io debba farlo è chiaro che posso farlo attenzione devo farlo con una certa attenzione intanto va verificata la normativa locale perché comunque tutto deve essere in accordo con le leggi italiane e va fatto in un modo che non possa creare un'atmosfera potenzialmente esplosiva quindi all'aperto lontano da qualsiasi luogo chiuso lontano dall'impianto ok qui vengono definiti circa tre metri di distanza da il luogo chiuso dove di solito ha inserito l'impianto ok e chiaramente va verificato che l'atmosfera potenzialmente esplosiva che si può formare ok non possa ristagnare all'interno di un luogo confinato e quindi abbiamo visto prima come si hanno diverse tipologie di intervento in funzione del gas che viene utilizzato ok la base è sempre la stessa a 2 l a 3 chiaramente il fluido a 3 va maneggiato con una maggiore cura problema principale proprio quello del fatto che solitamente sono più pesanti dell'aria ok quindi va sempre valutata questa peculiarità non bisogna assolutamente preoccuparsi e pensare che ci sia rischio di un'esplosione ok da un momento all'altro se vengono utilizzate le giuste precauzioni il rischio è praticamente azzerato precauzioni che sono state presentate nelle slide precedenti quindi quelle per i fluidi a2 sono più semplici vanno assolutamente rispettate quelle per i fluidi a3 si sommano a quelle per i fluidi a2 ok e devono essere tenute in considerazione ogni volta che si andrà a fare delle attività di manutenzione bene quali sono i prodotti che danfoss può offrire per soluzioni con fluidi infiammabili la danfoss ha un portfoglio che comprende numerosissimi componenti e la storia grande maggioranza di questi sono ovviamente compatibili con i fluidi infiammabili quando noi diciamo fluidi infiammabili e dobbiamo sempre ricordarci di dividere a 2 l a 3 ok quindi prima di fare qualsiasi attività progettazione ok di una macchina nuova o sostituzione di componenti esistenti su una macchina ok bisogna sempre verificare se sono rilasciati se sono ok con i fluidi infiammabili quello che ovviamente andremo a caricare c'è all'interno dell'impianto attenzione a non fare l'equazione fluidi infiammabili uguale a tex sono due cose diverse il supporto tecnico danfoss è a disposizione per dare delucidazione del caso quindi i componenti sono che sono rilasciati per fluidi infiammabili non sono per forza di cose a tex ok la tex è un qualcosa di diverso qualcosa di di più che non è necessario e va ad aumentare il costo del prodotto perché è una certificazione di un livello superiore che richiede una progettazione diversa dei test diversi quindi non facciamo equazione il fluido infiammabile uguale a tex danfoss praticamente ha un portfoglio intero di tutti i prodotti di linea fondamentalmente una grande grande maggioranza di controllori gli schermatori di calore sono praticamente tutti ok per i fluidi infiammabili e anche una parte di compressori soprattutto quelli che vengono chiamati light commercial compresso non è stato tradotto perché è difficile il termine corretto in italiano non esiste i classici compressori piccoli per uso quasi domestico cosa danfoss può fornirvi come risorse online e quindi gratuite per poter operare e maneggiare sia i componenti che le applicazioni con fluidi infiammabili danfoss a un sacco di risorse gratuite ok li andremo a sviscerare in maniera un po più approfondita nel webinar seguente che dirà solo mezz'ora ok che è legato proprio ai risoluzioni gratuite quel che ne chiamiamo i tool le applicazioni ok che possono essere software per computer o app per il cellulare che permettono di aumentare la propria conoscenza non strettamente del mondo danfoss dei prodotti danfoss che sono veramente tantissimi ma vi permettono di selezionare i componenti e gestire al meglio il passaggio tra fluidi a basso gvp con fuori ad alto gvp ve ne parlo proprio velocissimo in un minuto perché dopo una mezz'ora di presentazione solo su questo e c'è una guida retrofit ok che un documento di una ventina di pagine che è considerato veramente un documento da avere sempre nella propria biblioteca anche elettronica ok per poter riflettere sull'attività da eseguire durante durante il retrofit e cercare di valutare preventivamente quello che potrà accadere ok evitare quindi brutte sorprese compatibilità performance ma regolazioni ci sono infiniti problemi che si possono creare in un retrofit fatto male c'è q selector ok q selector è un programma veramente potente che permette di selezionare i componenti di selezionare intere linee ok mettendo insieme più componenti c'è una piccola applicazione molto utile per stimare il carico di una cellula è stata introdotta proprio questo weekend poco prima della refrigerante week un altro tool veramente interessantissimo che quello dell'analisi di un retrofit ok si inseriscono i parametri principali di funzionamento di un impianto funzionante a fluido all'alto gvp lo si scambia con uno a basso gvp e si avrà una idea del risultato che andremo ad avere cambiando il fluido refrigerante abbiamo un app che è lo gvp tool che è disponibile anche sul sul sito lo gvp tool è un app che permette in pochi semplici passi di verificare se la valvola che ho progettato installato progettata per un fluido all'alto gvp è ok con il fluido a basso gvp che andrò a retrofittare ok a caricare se sì se no e come spannometricamente regolarla ok non da un'indicazione precisa esatta sul quarto di giro da dare alla valvola ma da un'indicazione sul è fattibile non fattibile da un'indicazione di partenza per poter poi andare ad aggiustarla poi c'è txv superiore tunnel che è un sistema un'app che permette di massimizzare l'efficienza del sistema andando ad ottimizzare il suo riscaldamento in funzione dei parametri di funzionamento questo è da vedere con un attimo più di calma per capire cosa fa e lo slider lo slider non è altro che il regolo vecchio regolo che sempre aggiornato e ci consente di vedere principali proprietà dei refrigeranti quindi pressione e temperatura nei bubble point nei due point dei principali refrigeranti ed è molto utile averlo in campo per capire qual è la temperatura satura reggendo la pressione chiaramente il sito d'unfus è a vostra disposizione a qualsiasi ora del giorno ci sono un sacco di documenti video ci sono anche se vi scrivete delle lezioni online e cosiddette i lessons sono molto interessante purtroppo la maggior parte sono in inglese ma vi consiglio di darvi un'occhiata dargli un'occhiata e per vedere se trovate qualcosa di vostro interesse poi potete scaricare ovviamente tutti i programmi disponibili online messi a disposizione da d'unfus gratuitamente siamo arrivati alla fine o spero di avervi trasmesso qual è quali sono le raccomandazioni di d'unfus nell'utilizzo dei fluidi infiammabili immagino di non aver detto niente di nuovo l'obiettivo era semplicemente quello di porre l'attenzione su degli aspetti che vengono troppo spesso sottovalutati che vengono fatti perché si è sempre fatto così magari senza conoscere chiaramente i motivi quindi spero che dopo aver ascoltato questo webinar e visto queste slide che vi verranno inviate il webinar è stato registrato quindi sarà disponibile anche la registrazione che magari la nostra idea è quella che voi abbiate acquisito un po di coscienza ok relativamente alle pratiche che quotidianamente fate quando operate con fluidi refrigeranti la prima parte invece che è un po più teorica è legata soprattutto alla direttiva effe gas e agli scenari futuri che ha legato ai nuovi refrigeranti spero che sia stata interessante oltre agli installatori anche a chi e progetta macchine per capire quali saranno i refrigeranti del futuro ok non possiamo dire ovviamente quale saranno possiamo dire partendo dalla direttiva ok cosa accadrà quindi quali verranno banditi con la speranza che nel futuro i refrigeranti si trovino a un costo accettabile è un gvp piuttosto basso io vi ringrazio se avete domande mi verranno recapitate mi verranno recapitate e vi aspetto tra alcuni minuti per il prossimo webinar ciao giuli webinari is ended we can close it